Lega, i parlamentari, in particolare i capigruppo, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari, Roberto Calderoli, il nostro responsabile dell'organizzazione. Ringrazio tutti i parlamentari, gli esponenti del governo, i capi di partimento, insomma tutta la Lega che ha partecipato oggi a questo evento che, come vi ho detto, vuole essere un evento vivo, vuole essere l'occasione veramente per ascoltare il Paese e poter insieme decidere quali sono le priorità per la prossima occasione di governo, perché si avvicinano le date per cui auspichiamo che i cittadini siano chiamati a decidere chi governerà questo Paese e quindi noi siamo impegnati fin da ora in questo percorso di ascolto. Abbiamo tracciato una direzione, abbiamo dato, diciamo, ascolto, abbiamo messo nella condizione tutti di potersi esprimere. Il segretario è rimasto seduto qui in prima fila, sono trascorse da quando abbiamo iniziato più di otto ore, quasi nove ore, ed è rimasto qui in prima fila perché il suo proposito era ascolto il Paese e poi mi metto a lavorare per fare ciò che il Paese mi chiede. Allora siccome noi seguiamo una direzione, una traiettoria e la seguiamo perché è diretta dal nostro segretario federale Matteo Salvini. Grazie, ma è vero, nove ore rispetto a ieri mi è andata bene, ieri sono stato 12 ore in tribunale a sentire testimoni a mio carico, oggi ho sentito testimonianze positive. Certo non è come normalissimo strappare un sabato poi splendido come quello di oggi con col sole, con la famiglia, con gli internazionali di tennis, con l'Eurovision a Torino e quindi vale doppio il vostro essere qua. Non su tesi preconfezionate, ecco questo è quello che mi piace, io mi sono preso un tot di appunti come ho fatto ieri nell'aula bunker di Palermo perché la mia idea è quella di costruirlo insieme il programma con cui ci presenteremo alle elezioni, con cui governeremo questo Paese nei prossimi anni con 20 incontri nelle 20 regioni italiane. Una premessa, visto il momento delicato, questo è il mio atteggiamento perché vedo anche sui siti online, ovviamente difficilmente domani troverete sui grandi giornali gli spunti interessantissimi per chi c'era questa mattina alle 10, sull'energia, sul fisco, sul lavoro. Io ho chiesto appositamente che non fosse una giornata di partito, c'è stato un confronto sulla giustizia dove c'erano due magistrati, due pubblici ministeri che ritengono giusto scioperare contro la riforma cartabile, c'era dall'altra parte invece Carlo Nordio o Alfredo Mantovano che sostenevano la tesi esattamente opposta, abbiamo sentito il rappresentante delle piccole imprese italiane ed europee parlare insieme al segretario della CISL e a quello dell'UGL, a me interessa il confronto di idee diverse per poi arrivare a sintesi, non mi interessano i monologhi, però dicevo in questo aumento a qualcuno a sinistra e a buona parte del mondo mediatico e giornalistico interessa la polemica, interessa la divisione, a me no, ci possiamo permettere polemiche e divisioni in tempi di pace quando la gente lavora e tranquilla, dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso chi divide fa il male del paese, lo dico per i politici, lo dico per i giornalisti, quando abbiamo scelto la data per fare questa iniziativa non sarò lungo perché poi come me molti hanno il treno, l'aereo, però abbiamo scelto sabato 14 perché ieri ero a processo, domani ho la prima comunione di mia figlia, quindi confesso la scelta egoistica del... il bello di essere segretario del partito è che scegli le date che ti fanno comodo, almeno questo, onori e oneri. Però parto da questo perché leggo su alcuni siti le polemiche, la Nato, la Finlandia, io sono stato appunto in preparazione della prima comunione di mia figlia il mese scorso nel paese natale di Papa Giovanni XXIII, sotto il monte, nella Bergamasca, a visitare la cascina dove nacque e dove è cresciuto il Papa che ha ancora delle testimonianze e col parroco che domani insieme ad altri bimbi darà la prima comunione di mia figlia, ai bimbi fra le cose che ha chiesto durante la giornata, ha detto girate la cascina, siccome ci sono documenti storici, testimonianze, abiti, scritti, foto dell'epoca e segnatevi la cosa che più vi ha colpito. È più di un bimbo e devo dire che aveva colpito anche me, poi quando ci si è trovati il pomeriggio con il Don, hanno detto Don, a me la scritta che più mi ha colpito ed è quella con cui voglio aprire e chiudere questo lavoro perché parlare di pace non è mai fuori moda, una scritta che era un pensiero di Papa Giovanni che vale oggi più che mai, cerchiamo sempre ciò che unisce, non cerchiamo ciò che divide. In questo momento la priorità per quello che mi riguarda da segretario della Lega, da uomo di governo, da italiano, da padre è arrivare subito alla pace, è fermare la guerra, è fare tutto quello che è umanamente possibile per fermare le armi. E quindi l'hanno detto anche i generali che c'erano, anche qua c'erano generali, c'erano analisti, non c'erano amici di, cugini di, perché sembra quasi che a sinistra qualcuno, tra gli amici del PD con cui stiamo condividendo questa esperienza di governo e poi alle prossime elezioni torniamo a governare come centrodestra in maniera ovviamente più omogenea, più coerente, più compatta, questo chiederemo agli età. Però ogni tanto mi sembra che da quelle parti, su qualche giornale, in qualche aula parlamentare qualcuno giochi a risico. Cioè non colga il momento drammatico che stiamo vivendo, come tiri dadi, tiri su la carta, devi conquistare l'Asia e il Sud America, c'hai le tue armatine, i tuoi carri armatini, quindi sposti le armatine per provare a vincere la partita. Ragazzi qua ci sono 5.000 testati nucleari, abbiamo parlato del nucleare sano che riscalda le scuole e gli ospedali, c'è anche il nucleare meno sano che è quello distruttivo. Noi dobbiamo andare verso il disarmo, non verso il riarmo. Finlandia e Svezia sono paesi sovrani, decideranno di fare quello che legittimamente hanno diritto di fare. La mia domanda è adesso, in questo momento, dobbiamo fare sì o no quello che riavvicina le parti? Secondo me sì, secondo me dobbiamo lavorare per riavvicinare, partendo dal presupposto perché ormai con i tempi che corrono ovviamente devi fare una premessa che è sentita, però ripetita Juvent, noi siamo per la libertà, per la democrazia, per l'Occidente, per il rispetto dei popoli, le controversie non si risolvono nel 2022 con i carri armati ma con la diplomazia, quindi distinguiamo l'aggressore dall'aggredito. Punto. La Lega ha sempre sostenuto un invio di aiuti umanitari, economici, militari all'inizio di questo conflitto. Abbiamo il dovere morale da italiani di dirci dopo tre mesi come riavviciniamo le parti, come evitiamo altre morti. Quindi questo deve essere quello che ogni giorno ci porta a decidere cosa fare. lo sentivo dai generali, prudenza, equilibrio, buonsenso, bilanciamento. Ho sentito il professor Ricotti che parlava in un clare, ecco dobbiamo cercare quello che unisce, andrò a visitarlo. Quello straordinario esperimento di compartecipazione che stasera funziona nel sud della Francia, pochi chilometri dal confine italiano, ITER, che è una sigla come tante percorso, cammino, no, è un acronimo. C'è un esperimento che è partito, se non erro, nel 2007, che coinvolge 35 paesi al mondo per dare energia nucleare pulita e sicura al mondo. E stasera, in quello stabilimento, stanno lavorando scienziati, americani, russi, italiani e cinesi. È quello il mondo a cui io aspiro. Il mondo della collaborazione, il mondo della cooperazione. Ho sentito Giovanni che ringrazio per le parole, ringrazio per il coraggio e ringrazio per la spinta. Io penso che dobbiamo riportare tutto quello che unisce al centro per far tacere le armi. Lo sport deve unire, non può dividere. L'arte, la musica, la cultura e la poesia, ma veramente qualcuno pensa che allontanando un direttore d'orchestra, un poeta, uno scrittore o uno sportivo disabile si avvicini alla pace. Siamo seri. Però c'è, leggevo alcuni titoli, e Salvini lancia un segnale a Putin. Ha, secondo me, Putin oggi pomeriggio altri problemi che non aspettare i segnali di Salvini, così a occhio. Putin ha parlato la settimana scorsa con il presidente francese, con il presidente finlandese. Ha parlato al telefono col presidente italiano. Spero che parli il prima possibile col presidente degli Stati Uniti d'America. Ringrazio Rudolf Giuliani e mi domando se con Donald Trump alla Casa Bianca saremmo in queste stesse condizioni. È una domanda, è una domanda. Però, coi se e coi ma non si... Qua non si tratta di essere l'amico di... Ma qua ci sono stati organi di informazione che hanno dato del putiniano a Papa Francesco. Ma veramente siamo... Noi siamo fortemente nati, cresciuti, orgogliosi delle nostre libertà, delle nostre garanzie, dei nostri diritti. Ma per arrivare a pace io vado oltre. Non posso essere accusato di simpatie turche. Di tutto posso essere accusato fuorché di essere filo turco o amico di Erdogan. Ebbene, visto che Istanbul è una delle sedi più accreditate per ospitare un eventuale momento di pace, se servisse io mi tengo per me e mi lascio alle spalle le mie idee precedenti e vado a Istanbul a piedi perché la pace vale tutto. La guerra cambia. Adesso tutti a cancellare le foto con Putin. No, io non l'ho mai visto. Ma c'è l'amico Enrico Letta che ci ha siglato decine di accordi commerciali, giustamente. Era Presidente del Consiglio, l'altro Presidente della Federazione dell'Usta. È chiaro che lo devi vedere, incontrare, ascoltare. Ecco, il mio modello è quello di quell'istituto di ricerca per tornare al nucleare pulito. Dove, ripeto, stasera, nonostante il conflitto, nonostante la violenza, nonostante le bombe, ci sono scienziati russi e americani che mangiano insieme dopo aver cercato qualcosa di positivo per il nostro Paese. Quindi io spero che la si smetta, e lo dico ai politici, e lo dico ai giornalisti, per la piccola bega quotidiana politica o giornalistica italiana a mettere a rischio quello che è di più importante e dobbiamo lasciare ai nostri figli, che è un mondo che vive in pace. È un mondo che vive in pace. Questo è il nostro obiettivo. Quindi, mi sono preso alcuni appunti. Poi ci sono priorità. Leggevo Enrico Letta, che oggi è un'altra iniziativa, dice che le sue priorità sono lo Ius Soli e lo Ius Cole, e poi la legge elettorale proporzionale è il DDL-ZAN. Punti di vista, lo rispetto. Per me la priorità dei prossimi mesi e dei prossimi anni in Italia è lavoro, lavoro e ancora lavoro. Lavoro, lavoro e lavoro. Vado al volo sui punti che mi sono segnato, perché mi ero messo giù una bozza di discorso, però per essere serio, se questo è un percorso per ascoltare e costruire, non faccio alle sette di sera il discorso che mi ero messo giù alle dieci della mattina prima di ascoltare tutti. E dico, questo è un percorso che non offro solo alla Lega, che è una comunità, che è una famiglia. Da trent'anni provano a dividerci, non ci riusciranno per i prossimi trent'anni. Avviso ai naviganti, questo... però vado oltre, a proposito di cercare ciò che unisce. Questa non è l'idea d'Italia della Lega. Mi impiacerà offrire questo percorso di ascolto, di costruzione e di contributo all'intero centrodestra, perché solo unito il centrodestra vince e governa questo Paese. Le divisioni aiutano solo il campo avverso. E questo vale a Palermo, vale a Verona, vale a Genova, come a L'Aquila e a Catanzaro. Bisogna cercare gli elementi che avvicinano, che uniscono, lasciando all'altro campo le polemiche e le divisioni. Ci sono elezioni amministrative il 12 giugno in mille comuni, andremo divisi in una decina di comuni. Mi spiace per quei dieci comuni e dovremmo fare di tutto per ritrovare l'unità anche in quei dieci comuni, però io penso che la Lega abbia l'onore e l'onere di offrire questo percorso di ascolto anche a tutti gli altri amici della coalizione con cui governeremo. Se... poi governeremo, attenzione. Governo e potere per qualcuno sono un fine. Sto al governo per stare al governo. Cioè c'è qualcuno che da anni riesce a perdere le elezioni, però poi riesce a essere al governo. Tu gli chiedi ma per fare cosa? Per stare al governo. Per me l'esercizio del potere, lo stare al governo non è il fine del mio agere politico, ma è un mezzo per rendere migliore il mio Paese. E questo io penso che sia ben chiaro a tutti i sindaci e i parlamentari della Lega. La Lega che ormai ho sentito Alan, con cui facciamo una campagna elettorale in Regione Emilia-Romagna, stiamo parlando di dieci e passa anni fa, era un po' più magro lui e ero un po' più magro io. Comunque se n'è fatta di strada. Pensate che oggi la Lega ha più di 800 sindaci che stanno lavorando, 5.000 amministratori locali, governa Regioni dalla Lombardia alla Sicilia. Ne abbiamo fatta di strada, però il proverbio chi si accontenta gode non è il mio proverbio. Quindi non mi accontento dei risultati miracolosi, incredibili, pazzeschi, strabilianti che abbiamo ottenuto. Il dibattito sull'autonomia. Pensare solo dieci anni fa ad avere un Ministro degli Affari Regionali che sta portando a casa, io spero entro la fine della gesillatura, incrociamo le dita, perché questo è un governo un po' strano, con una maggioranza un po' strana, ma a volte sono i momenti strani che partoriscono le cose migliori. Se riusciamo a portare a casa l'autonomia facciamo il bene di tutta Italia e uniamo Nord e Sud. C'è un'iniziativa in corso a Sorrento, Roma chiama Sorrento, passando per Verona e passando per Varese. L'autonomia unisce, però questo è anche un orgoglio della Lega perché avere l'assessore all'identità regionale siciliana che interviene dopo il governatore Attilio Fontana. Apro e chiudo la parentesi. Ieri io sono stato per dodici ore in un'aula di tribunale. Sono felice che non andrà in un'aula di tribunale un uomo per bene come Attilio Fontana. L'unica cosa che non è pervenuta sono le scuse di PD e 5 Stelle che hanno sparso fango per mesi e i titoli di apertura di alcuni giornali e i telegiornali, però abbiamo finito di illuderci. La risposta sono i referendum sulla giustizia del 12 giugno per rimettere le cose a posto. Oggi abbiamo scelto cinque temi. Girando tutte le regioni italiane, dalla Liguria, alla Calabria, dal Friuli, Venezia Giulia, all'Abruzzo, esauriremo da qui a febbraio tutti gli altri temi. Aggiungo qualche mia riflessione che secondo me dovrà contraddistinguere l'idea di Italia della Lega e del centro-destra. Famiglia. Oggi non potevamo mettere dieci panel, però famiglia. L'Italia che vogliamo. Una delle cose più belle in Italia, se me lo doveste chiedere a freddo, i 310 centri di aiuto alla vita gestiti da volontari che hanno fatto nascere 250.000 bambini aiutando quelle mamme a diventare mamme. Perché c'è la cultura della vita. Da una parte c'è la cultura dello sballo, dall'altra parte la mia Italia non usa la donna come un utero in affitto e non riconosce nessun tipo di droga come droga legale. La mia Italia riconosce l'importanza della famiglia, della vita e del divertimento sano. Lo sport. Invece di ammazzarti di pasticche e di altre cose, sport. Sport ovunque e comunque. E invece dell'utero in affitto dobbiamo lavorare questo salò nostro al preciso dovere per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie che aspettano di adottare un bambino in questo Paese. E piccola nota a margine, siccome il mese scorso mi hanno attaccato perché ho osato andare a salutare un Premier di uno dei 27 Paesi dell'Unione Europea, peraltro appena rieletto con il 60% dei voti Victor Orban, così funziona in democrazia, che era stato benedetto dal Papa la mattina ma poi ha avuto la sciagura di incontrare Salvini il pomeriggio. Il Paese europeo dove il tasso di natalità cresce maggiormente ogni anno a suon di più 5% è l'Ungheria, dove c'è una legge sulla natalità a proposito di tasse che dal quarto figlio rende la donna soggetto fiscalmente inesistente, estende il congedo parentale non solo alle mamme e ai papà ma fino al terzo anno del bimbo, ai nonni ed ha un bonus per le auto familiari per sette posti perché lì la famiglia è un valore aggiunto. Qua per qualcuno il figlio è un problema economico, a me piacerebbe che il figlio non fosse un problema economico. Io ho due figlie, sono la cosa più bella del mondo che il buon Dio mi ha regalato, però ogni tanto sento i miei amici che ne hanno uno, ma il secondo non me lo posso permettere. Un paese dove non ti puoi permettere il fratellino, la sorellina non è un paese civile. Tasse, l'abbiamo sentito, noi facciamo tante battaglie, siamo entrati in un governo complicato e lo ripeto, se avessi dovuto fare un calcolo di partito avrei detto di no. Con la pandemia che stava mietendo vittime con una situazione economica e sociale devastante non era mio diritto da segretario della Lega, ma era mio dovere da segretario della Lega mettere il futuro dell'Italia davanti all'interesse del partito. Io sono sicuro che gli italiani ce lo riconosceranno. Altrimenti la battaglia per evitare la patrimoniale sulla casa non si sarebbe combattuta né vinta e io sono contento che questa mattina ce l'abbia riconosciuto il presidente di Confedilizia. Abbiamo sventato un attentato da 1140 euro a famiglia qualora fosse passata la revisione in senso patrimoniale del catastro. Un conto è far emergere il milione di case fantasma e usare quei soldi per abbassare l'Imo agli altri. Un conto è dall'oggi al domani decidere che casa tua vale di più, ma se casa tua vale di più ci paghi più tasse su quella casa. In questo momento dovrebbero passare sui nostri corpi per approvare un solo aumento di un solo euro di una sola tassa. Non è il momento. Però l'abbiamo vinta perché eravamo al governo. Diciamo che c'è qualche cosina, ho messaggiato ieri Federico Freni quando mi arrivano degli input, c'è qualche cosina da sistemare il bonus per pagare le bollette di luce gas da 200 euro, non può andare ai percettori di reddito di cittadinanza ed escludere le partite IVA. C'è qualcosa che non funziona. L'Italia che ho in testa aiuta chi non può lavorare, lo chiarisco. Chi non può lavorare, non può essere dimenticato e non deve essere dimenticato. Però ce lo diciamo, all'inizio poteva essere sulla carta uno strumento giusto. Ti espellono dal mondo, l'abbiamo approvato, a tre anni dall'empirica prova dei fatti, quello che sulla carta perdi il lavoro, non ti lascio in mezzo a una strada. Ti do temporaneamente un contributo, poi ci sono coloro che ti riformano, i navigatori, i centri per l'impiego e tu dopo qualche mese hai una, due, tre offerte di lavoro. Io mi riprendo il contributo e tu sei stato riformato per entrare nel mondo del lavoro. I dati che abbiamo sentito ci dicono che quello che funzionava sulla carta, la prova dei fatti, non funziona. Quindi il reddito deve assolutamente essere garantito a coloro che non possono lavorare, ma non può essere uno strumento dato a coloro che non vogliono lavorare. Perché sono due cose profondamente diverse. Su l'Italia che voglio e che vogliamo insieme, perché l'erba voglio, ma lo diceva la mia non esiste neanche il giardino, l'Italia che desidero. È orgogliosa del suo passato, ma non con la nostalgia dei nostri anziani che vanno al bar dicendo ti ricordi, quando ero avevo io ormai quasi... Però insomma, perché noi abbiamo radici profonde e chi ha radici entra nel futuro di getto. Ma vi pare normale che da una settimana si stia facendo polemica su una delle realtà, delle esperienze, delle radici più belle del nostro Paese, che è il glorioso corpo degli Alpini, che Dio ce li conservi in salute da una settimana. Qualcuno ha sbagliato? Paga. Qualcuno ha insultato, ha offeso, ha molestato? Paga. Chiunque sia, dovunque sia nato e qualunque stelletta abbia sulla giacca. Ma io chiederò agli 800 sindaci della Lega di invitare in tutti gli 800 comuni che amministrano gli Alpini, perché avere gli Alpini nel proprio comune è una delle cose più belle che possa capitare, perché sono generosità, volontariato, sacrificio. Per non cannare, prima, mentre ascoltavo, ho mandato un messaggio al Presidente nazionale, gli ho detto, Presidente, ma di queste centinaia di denunce, perché sono gravie, non sto sottovalutando, assolutamente. Meschino e criminale, chiunque allunga una mano. Ma scome abbiamo letto sugli organi di informazione da una settimana che ci sono centinaia di denunce, quante ne risultano depositate? Una. Una. Quella donna va difesa a qualunque costo e quel criminale va preso a qualunque costo. Però giocare alla cancel culture, cioè cancellare le culture, cancelliamo la famiglia, cancelliamo il concetto del lavoro, cancelliamo il merito, cancelliamo la scuola. Sentivo la formazione, la scuola, ma non la buona scuola di Renzi. Lo dico da uno che ha fatto il liceo classico e poi facoltà umanistiche, investiamo sulla formazione professionale. È poco chic avere il figlio che va all'istituto tecnico, al professionale, all'alberghiero. Chiamiamolo liceo tecnico, però dobbiamo mettere in condizione i nostri figli di avere un futuro. Adesso c'è il numero chiuso nelle facoltà scientifiche e libero accesso alle facoltà umanistiche. Facciamo l'esatto contrario. Mettiamo un numero chiuso alle facoltà umanistiche e lasciamo libero accesso alle facoltà scientifiche, a chimica, fisica, medicina, ingegneria. Cioè, di questo c'è bisogno. Ci vuole energia? Sì, energia. Il nucleare, non lo sapevo, io sto colmando alcune lacune, ma d'altronde dubitare degli onniscienti. Io non sono onnisciente, sto cercando di capire, di imparare. L'ascolto serve a questo. Il nucleare produce meno emissioni di alcune energie folite come il fotovoltaico. La filiera del nucleare è una filiera interamente europea. Se tu scommetti sul nucleare e investi sul nucleare, non solo fai il bene dell'ambiente, ma crei posti di lavoro qua. Perché la cosa incredibile, e me la sono approfondita ascoltando un professore, è l'elettrico, elettrico, elettrico. Se non hai l'auto elettrica sei uno sfigato. E bisogna, basta con questi auto, con questi motori, benzina, diesel, elettrico. Poi uno va a studiare. Per fare la batteria elettrica servono cobalto e nickel. Dove li trovo? Porta Portese, cobalto e nickel? No. A Milano, in Val Brembana, alle Ollie? No. Purtroppo non abbiamo disponibilità di cobalto e nickel. Il primo produttore al mondo di cobalto è la Repubblica Democratica del Congo, 100.000 tonnellate. Il secondo, per valmi le dimensioni, è la Russia, 6.000. La Cina sta investendo direttamente oggi, mentre noi siamo qua a litigare politicamente sul fatto quotidiano della Repubblica, su Codetto Salvini, sulla Finlandia, sulla Svezia. Ripeto, io sono per l'autodeterminazione dei popoli, quindi Finlandia e Svezia faranno quello che riterranno giusto per loro fare. Mentre noi ci dividiamo su questo, la Cina sta investendo direttamente, economicamente, in 52 su 54 dei paesi africani. Il 95% del cobalto prodotto in Congo arriva a Shanghai. Uno dice, cacchio, col cobalto sono messo male perché il primo è cinese e il secondo è russo. Mi rifaccio col nickel. Indonesia, Filippine e Russia. In Indonesia e nelle Filippine, che sono i primi due paesi produttori, ovviamente. La presenza preponderante è quella cinese. Quindi i geni della Commissione europea, da anni, e la guerra quantomeno ha interrotto questa follia, ci hanno spiegato che per emettere meno CO2 dobbiamo perdere alcuni milioni di posti di lavoro in Europa e lasciar perdere la tecnologia europea per andare a fare un favore a Cina e Russia. Ma adesso noi dobbiamo rinunciare al gas dalla Russia e lo andiamo a prendere dall'Algeria, dove l'operatore è russo ed è Gazprom. Cioè, questo è, questo è, questo è, quindi, è titolo, Salvini amico di Putin, ma tanto questo lo scrivono anche se mi allaccio le scarpe partendo dalla sinistra e poi arrivando dalla destra perché do un segnale. No, dobbiamo, possiamo avere da parlamentari italiani, avere il diritto e il dovere, al di là di salvare vite nel mondo che è fondamentale, fare concretamente, pragmaticamente, trasparentemente l'interesse nazionale italiano? Possiamo difendere l'interesse nazionale italiano o dobbiamo chiedere il permesso a qualcuno? Mi sembra che i tedeschi lo stiano ampiamente facendo da tempo, mi sembra che i francesi lo stiano ampiamente facendo da tempo. Io penso che Mario Draghi abbia l'autorità e l'autorevolezza per chiedere all'Europa di riprendersi in mano il suo futuro, Parigi, Berlino e Roma, ed è l'Europa, nella sua autonomia, a decidere del suo futuro, politico, strategico, lavorativo, energetico, agroalimentare, industriale. Speriamo, sul fronte immigrazione mi taccio perché ci sono a processo, devo dire che però la cronaca quotidiana da Roma, Milano, da Bologna, Napoli a Palermo è incredibile, su questo dovremo lavorare per rendere l'Italia un Paese sempre più amico e aperto alle donne e agli uomini per bene che arrivano dall'altra parte del mondo, ma occorre la certezza della pena come c'è la patente a punti per quello che guida e se sbaglia qualcosa perde dei punti, il permesso di soggiorno a punti che ti riporta nel tuo Paese, se sbagli qualcosa penso che sia un provvedimento di civiltà, perché non se ne può più. L'autonomia unisce e io spero che Maria Stella, Tiglio e Luca trovino la quadra ma non nei prossimi mesi, nei prossimi giorni e sono assolutamente a vostra totale disposizione. La Lega, ripeto, oggi è una comunità di 5.000 amministratori locali che governa la provincia autonoma di Trento, dove a proposito di autonomia la scuola dipende dall'ente provincia con gli insegnanti e le strutture scolastiche e l'assessore alla scuola della provincia di Trento, l'amico Mirko Biggesti, ha fatto una scelta rivoluzionaria di salute, di bellezza, di ossigeno, senza che i bimbi trentini ne stiano patendo alcuna conseguenza negativa, anzi, ha tolto le mascherine agli studenti delle scuole della provincia di Trento, perché... Speranza. Speranza come elemento positivo, ovviamente. La Lega promotrice di un centrodestra unito cercano di farci litigare con Giorgia, con Silvio, con Giovanni, con Lorenzo, con Maurizio. Più ci provano, meno ci riescono. L'importante è che tutti abbiano lo stesso obiettivo. Io chiarisco che il mio obiettivo non è l'importante partecipare. Il mio obiettivo è puntare a vincere. Io non mi accontento di tutelare l'interesse del mio partito a costo di perdere. No. Io ho chiesto anche a queste elezioni amministrative, e le ringrazio, a donne e uomini della Lega, che avrebbero potuto essere bravissimi sindaci del loro comune, di fare un passo indietro per il bene della squadra e della coalizione. Ecco, io spero che lo stesso spirito di unità animi tutto il centrodestra e non solo qualcuno nel centrodestra. Ma ne sono sicuro, ne sono assolutamente sicuro, sul fatto lavoro. Io martedì incontrerò, li ho invitati io, e li ringrazio per la risposta, nei miei uffici, in Senato, i segretari di CGL, Cis, Luigi e UGL, Landini, Sbara, Bombardieri, Capone, per parlare di aumento di stipendi, di sicurezza sul lavoro. Ecco, i tre, il numero tre, ho sentito oggi, il numero tre è il numero perfetto, però oggi ho sentito citare due volte il numero tre, e me lo prendo come un impegno nella carne, perché non può essere che nel 2022 l'Italia primeggi per questi due numeri tre. Ogni giorno in Italia ci sono tre morti sul lavoro, e ogni giorno in Italia vengono arrestate tre persone che poi verranno assolte perché il fatto non sostisse. Penso che siano due o tre di inciviltà che dobbiamo cancellare dai nostri record, perché sono numeri drammatici. Però chiederò al segretario della CGL perché no? È meglio un lavoro a tempo o un non lavoro? Se mancano, come abbiamo sentito, centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori per una stagione turistica che sarà eccezionale, per il turismo, per il commercio e per l'agricoltura, è meglio la disoccupazione, il lavoro nero o il voucher che permette ai ragazzi di lavorare, alle aziende di assumere e pagare le tasse? Perché no? Non è più il momento dei noi ideologici. Vabbè che se c'è uno che raccoglie le firme per bloccare il termo valorizzatore a Roma, ragazzi, qua siamo veramente messi male. Ormai qua non so, Giovanni, se pratica olimpica la caccia al cinghiale, qua ormai in due giri è complicato. Quindi non è più il momento dell'ideologia. Quante battaglie facciamo al governo per andare avanti con la TAV e con la TAP e adesso, ma per fortuna che c'è stata la Lega, ma anche sulle Olimpiadi Invernali. Se fosse stato per qualcuno non ci sarebbero state le Olimpiadi Invernali. Vi ricordate i sostenitori della decrescita felice? Ecco, io non credo alla decrescita felice, io credo alla crescita felice. Io mi aspetto dal Presidente Draghi coraggio su due battaglie. Per caità è diventato Presidente del Consiglio con la pandemia in corso e agli sgoccioli della pandemia, anche se c'è qualche virologo nostalgico che preannuncia decine di milioni di contagi, e io quando li sento ogni tanto mi... No, eh, madonna mia. Cioè, vediamo. Però due battaglie. Uno, dopo l'emergenza sanitaria e con l'emergenza bellica in corso che sarà anche emergenza economica e sociale, una grande, irripetibile, massiccia, emergenziale, enorme, generalizzata pace fiscale fra i cittadini ed Equitalia, è doverosa. È doverosa. Cioè, lo Stato veramente si dovrebbe far vivo a casa di 15 milioni di persone fisiche. Questi sono i numeri. Le pendenze del magazzino fiscale dell'Agenzia delle Entrate hanno 140 milioni di cartelle esattoriali in ufficio pari a 15 milioni di persone fisiche. Noi, fra pandemia e guerra, ci facciamo vivi con la letterina verde, con la busta verde dell'Agenzia delle Entrate. Io penso che sia un duplice vantaggio, una rottamazione, un saldo estralcio di questo enorme magazzino fiscale. lo Stato finalmente incassa una parte di quello che da 20 anni non riesce a incassare e questi 15 milioni di italiani tornano a vivere, a respirare, a pagare le tasse come Dio comanda. Se devo entrare nelle case di qualcuno, entro nelle case di quello 0,2% di evasori che hanno cartelle fiscali milionarie. perché l'80% delle cartelle è inferiore ai 10 mila euro. E' il pensionato, e' la maestra, e' l'artigiano, e' il commerciante, e' quello che non è stato bene, e' quello che ha avuto la disgrazia in famiglia, e' quello che si è separato, e' quello che ha avuto problemi di droga col figlio, e' quello che ha avuto l'incidente. Stiamo parlando di milioni di persone e non penso che la grande evasione sia quella. Andiamo a concentrarci sullo 0,2% delle cartelle esattoriali che invece riguardano i furbetti veri fatta la sanatoria per coloro che non possono pagare si le porte del carcere si aprono per quelli che non vogliono pagare, che e' un altro paio di maniche. Non possono pagare sempre i soliti. Non la faccio lunga e chiudo col tema da cui siamo partiti. Poi il prossimo appuntamento sarà a Genova il 23 maggio, poi li avremo regione per regione. Ho visto che la mia prossima udienza a Palermo e' venerdì 17, giugno. Ho aperto con la pace e chiudo con la pace. E' veramente faccio un appello a tutta la politica italiana, a tutto il giornalismo, al mondo delle università, dei sindacati, delle associazioni, dei produttori. Togliamoci la giacca, la felpa, la spilla, il distintivo, perché la guerra merita di più prudenza, equilibrio, buonsenso. la priorità adesso è fermare le armi e salvare vite. Salvare vite in Ucraina, salvare vite in Russia e salvare vite posti di lavoro in Italia. Quindi tutta la politica, 60 milioni di italiani, e non lo dico perché tutti i sondaggi dicono la maggioranza assoluta degli italiani è contraria all'invio delle armi, è contraria alla prostituzione della guerra. Io lo direi anche se ci fosse l'1%. Abbiamo cominciato a dirlo due mesi fa, ve lo ricordate? Quando è cominciata la guerra, quando abbiamo fatto una riunione una mattina deputati e senatori, parlando di pace, quando era complicato parlare. Adesso ho visto che probabilmente anche gli altri, sentendo l'aria che tira, andando in posta, andando in fabbrica, andando a scuola, andando in università, andando in negozio, questa voglia di allargare allargare i confini della guerra non è una voglia sana. Bisogna ridurre, bisogna circoscrivere. Io mi sono segnato una frase di uno dei diplomatici italiani più noti, più stimati, più riconosciuti, che ho sentito questa settimana perché, ripeto, quello che poi trasformo in agire politico nel 90% dei casi è frutto di un ascolto. Non è che mi alzi la mattina e dice, ciao, oggi cosa faccio? Oggi come mi vesto e oggi che linea politica prendo? Uno ascolta, anche riservatamente. Bene, l'ambasciatore Vattani, che è stato per due volte segretario generale degli esteri, è stato a Bruxelles, è stato in giro per il mondo, gli ho chiesto un appunto. E le guerre possono finire in due modi. Questa è la storia, non è Salvini. Storicamente, nella storia dell'uomo, le guerre finiscono in due modi. O uno dei due vince sul campo, sterminando gli altri, e vincendo proprio sul fronte. Nel 2022 A, è complicato pensarlo, B, non è auspicabile pensarlo né per l'uno né per l'altro fronte, perché non oso immaginare le centinaia di migliaia di morti, le atrocità e le sofferenze nell'auspicare la vittoria della guerra sul campo. E quando sento nella mia Italia, nella mia Europa, nel mio Occidente, patria di diritti, civiltà e democrazia, auspicare che uno dei due vinca sul campo e l'altro venga cancellato dalla faccia della terra, mi fa preoccupare. Perché non è la nostra cultura. non è da Aldo Moro a Bettino Craxi, da Prodi a Berlusconi, l'Italia per 70 anni è stato equilibrio. Ma non perché ti fai... Noi abbiamo le basi Nato, siamo nell'Alleanza Atlantica, siamo nell'Unione Europea, siamo un Paese fondatore, ma abbiamo svolto sempre una funzione di ponte, di equilibrio, di dialogo, di ascolto. Quindi, tolta la folla idea che uno dei due vinca sul campo a suon di cadaveri e di morti, l'altra soluzione è la soluzione diplomatica. Terzi un non datur. No, non occorre... è così. Quindi l'Ambasciatore Vattani mi scrive che una volta intorno a un tavolo le tre regole di una trattativa per cui la trattativa possa arrivare a buon fine sono che nessuno dei due si senta umiliato, che ciascuno dei due ceda a qualcosa e che nessuno dei due si alzi dal tavolo avendo perduto la faccia. Rileggo, riascolto e lo offro ai giornalisti che ti fanno armi e ai politici che sperano che il conflitto vada avanti maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e chissà quando. Io spero che il mese di maggio, il mese mariano sia l'ultimo mese di guerra, perché la trattativa vada a buon fine. Io su questo, nel mio piccolissimo, perché io sono un microbo, sono una cellula di un organismo che sta cercando di fare la sua piccolissima parte. Io sto sfruttando tutti i canali che ho coltivato in questi anni politici, economici, professionali e diplomatici perché questo tavolo ci sia, perché purtroppo oggi questo tavolo manco c'è, e perché a questo tavolo si siedano le due parti in conflitto e si alzino dopo un'ora, dopo un giorno, dopo una settimana o dopo un mese, stringendosi la mano con nessuno dei due umiliato, con tutti e due che cedono qualcosa rispetto alle pretese e con entrambi che tornino dai loro cittadini e dalle loro famiglie dicendo non ho perso la faccia. Chiudo con il modello da cui sono partito. Se il modello è quello della rinnovata guerra fredda dobbiamo impedirlo in qualsiasi maniera. Cioè se qualcuno è nostalgia... A me va bene al cinema. Io sono cresciuto come molti di voi con Rocchi... Rocchi! Beh, fra Rocchi Balboa e Ivan Drago io penso che 99 persone su 100 ti fassero per Rocchi Balboa evidentemente. Ma quello va bene in televisione. Non stiamo vivendo in un film. Stiamo vivendo in un momento di precari equilibri dove il gas che qualche illuminato vorrebbe noi domani mattina non comprassimo più dalla Russia va in Cina. Dove il petrolio che noi dovremmo comprare più dalla Russia va in Cina. La risoluzione ONU si diceva stamattina contro la Russia non ha avuto il voto non solo della Cina attenzione dell'India del Pakistan del Brasile di paesi africani quante guerre noi pacifici occidentali lo dico con autocritica in primis a me stesso sbagliate abbiamo fatto negli ultimi anni in Libia in Siria in Iraq in Afghanistan sai però uno dice in Libia c'era Gheddafi e ci hanno raccontato che bisognava farlo fuori perché avremmo stabilizzato il Nord Africa lascio a voi il giudizio su 11 anni di guerra fra tribù in Libia in Iraq siamo andati perché c'erano i depositi di armi segrete dopo un po' si è scoperto che non era probabilmente il paese più pericoloso al mondo in Siria stiamo ancora rimediando i danni in Afghanistan siamo andati infilarci in una guerra finanziando una parte in causa scappando vigliaccamente quest'estate col piccolo particolare di lasciare 7 miliardi di dollari di armamento in mano ai talebani che adesso non li stanno usando per motivi umanitari e a scopi umanitari quindi ripetita Juvent qua il clima di leggo alcune analisi torniamo alla guerra fredda saremo distanti per decenni non ci parleremo più per decenni sbagliato prima cessate il fuoco ovviamente partendo dall'assunzione che il cessate il fuoco va chiesto a chi ha aggredito non vado a chiedere al cessate il fuoco all'aggredito cioè anche qua qualche settimana scorsa c'è stata Repubblica che per tre giorni ha titolato Salvini va a Mosca non sapevo manco dove avevo il passaporto io non mi è servito quell'articolo perché dicendo abbiamo notizia sicura Salvini ha chiesto il visto non sapevo dove avevo messo il passaporto avendo letto Repubblica sono andato a cercare il passaporto Repubblica e altri giornali spesso non danno fiato alle notizie che arrivano dalla Russia perché sono artefatte sono fake news l'unica volta che hanno dato fiato a una notizia che arrivava dalla Russia era il mio visto fantasma tanto che è una delle prime volte nella storia penso che sia successo l'ambasciata russa direttamente ha fatto un comunicato stampa a Lanza dicendo Salvini non ha mai chiesto il visto per venire in Russia notizia drammaticamente scomparsa da Repubblica nel senso chi l'ha visto il visto detto questo lo ribadisco se fosse utile con tutti i canali che abbiamo aperto e di cui ho parlato anche col presidente Draghi che la microcellula Salvini andasse a Istanbul andasse a Washington no perché mi ha rappresentato sicuramente meglio di come possa fare io Mario Draghi ma andasse a Pechino andasse a Gerusalemme andasse a Mosca se serve per riavvicinare le parti è mio dovere andarci o stare a casa? no ve lo chiedo è mio dovere andarci o stare a casa? segnalateli no poi ovviamente se dovessi fare la scelta più comoda farei altro stasera ho l'ultimo aereo per Milano alle 22 domani mattina la prima comunione di mia figlia domani alle 18 c'è un evento sportivo di cui non parlo non dico nulla neanche sotto tortura l'unica roba che ho tenuto in sospeso nell'agenda ho visto che nelle prossime settimane sarò Rieti Frosinone Palermo Messina Belluno Padova Guidonia mi hanno messo una cena il 22 sera alla Spezia ho detto tienila in sospeso un attimo chi segue il campionato sa perché però con questo non dico nulla perché l'Inter è ovviamente avvantaggiata nella vittoria alla corsa per lo Scudetto questo non è ecco la Lega è una famiglia se non si parla di calcio quando si parla di calcio come in tutte le buone famiglie si rischia di di fare il danno no io sono felice sono preoccupato e chiudo perché ho il dovere di essere onesto ho incontrato amministratori delegati imprenditori saranno un settembre un ottobre e un inverno difficile a prescindere dalla guerra tante fabbriche che chiuderanno ad agosto per lasciare qualche giorno di pausa gli operai non riapriranno a settembre l'inflazione rischia di arrivare più vicino al 10 che al 5 il costo energia e materie prime schizzerà almeno fino a tutto il 2023 chi dice che è una crisi se la guerra Dio lo voglia finisce domani mattina i problemi ce li portiamo avanti almeno per un anno e mezzo due anni di lockdown hanno lasciato nei nostri ragazzi fino a 16 anni un uso e abuso di droghe e di psicofarmaci che non ha precedenti nella storia ed è un problema con cui dovremo convivere e lavorare e ragionare nei prossimi anni quindi saranno momenti complicati non ho voglia né tempo da perdere in litigi la Lega è una famiglia l'obiettivo è là il centrodestra deve tornare a essere una comunità di diversi con un obiettivo comune non governare per tanto governare come il PD o parte dei 5 Stelle ma governare per cambiare meglio il paese io penso che se voi e chi ci sta seguendo da casa ai milioni di italiani che credono nella Lega credono nell'Italia credono nel cambiamento quando dico italiani penso anche ai milioni di stranieri e di straniere per bene che sono qua sono arrivati più di 120.000 bimbi e donne dall'Ucraina in questi due mesi voi avete sentito una notizia di cronaca nera riferentesi a queste persone ecco l'Italia deve essere il paese più bello del mondo dove vivere dove lavorare dove studiare dove far l'amore dove costruire il proprio futuro e la propria famiglia per le persone per bene abbiamo il dovere di essere seri preparati compatti però questo è un mio difetto se sono convinto di una cosa la faccio perché nella vita ci sono e in politica come nel lavoro due possibilità di stare al mondo vivere la vita commettendo anche errori o farsela scivolare addosso cioè essere protagonista e artefice del destino proprio della propria comunità oppure star seduti in salotto e commentare quello che fanno gli altri nel nome del rancore dell'invidia della gelosia non siamo fatti per essere questo abbiamo il dovere di prendere per mano questo straordinario paese e di riportarlo laddove i nostri nonni e i nostri genitori ce l'hanno lasciato con pazienza lavoro e sorriso viva la Lega viva l'Italia e viva tutti voi a ti io vieni che faccia un po' viva l'Italia